Il componente ha bisogno di un attimo di attenzione affinché possa svolgere questa realizzabilità al meglio. I ragazzi mi sembrano quasi pronti, attendiamo solo un segnale da parte loro. Ok, sono pronti, quindi anche per voi, 3, 2, 1, let's go! Sono partiti, cronometro anche, ma gli tocca scadire il tempo. 25. 25 35 40 30 30 30 30 30 31 32 32 33 33 33 33 91 92 92 secondi complimenti ragazzi 92 secondi ricordiamo che questa squadra non è da tantissimo tempo